Sono i giovani studenti degli istituti superiori napoletani, i protagonisti della giornata della legalità organizzata nella Sala Giunta del Comune. L'iniziativa, la sua terza edizione, si inserisce quest'anno nel ciclo di incontri dedicati alla prevenzione promossi dall'assessorato alla salute e vuole diffondere la cultura del rispetto delle regole. La giornata nasce in collaborazione con la fondazione regionale Polis che offre sostegno alle vittime innocenti della criminalità ed è impegnata nella valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. In questi itinerari di percorsi di legalità noi incontriamo tantissimi ragazzi e non sono ragazzi che vengono portati per così dire all'ammasso senza sapere cosa vengono a fare, sono ragazzi che riflettono, che si informano, che si rendono consapevoli di quello che accade intorno a loro e lo fanno insieme a noi e molto spesso lo fanno anche insieme ai familiari delle vittime. Queste visite in comune servono anche e soprattutto ad approfondire e a rendere più forte questo legame per far crescere nei nostri giovani appunto il senso civico del rispetto e della conoscenza dei meccanismi istituzionali e dell'istituzione stessa. Al dibattito con i ragazzi alimentato dalla proiezione di video e letture sul tema della lotta alla Camorra sono intervenuti i rappresentanti di enti, associazioni, ordini professionali ed esponenti del settore dell'informazione. L'informazione e legalità devono marciare di pari passo, oggi siamo qui nel comune, con il comune, la regione, la fondazione Polis, con tanti giovani, le scuole. Ieri abbiamo visto una piazza devastata dalla violenza, oggi siamo qui a parlare di legalità, questa è una risposta importante che arriva subito a 24 ore da una giornata molto triste per la città.